Direttore partiamo dai gironi, oggi una pubblicazione è stato un parto abbastanza travagliato tenendo conto delle esigenze di tante nobili decadute che hanno richiesto qualche spostamento che alle società tra virgolette normali non va giù. No, il problema avevamo già parlato 7-8 giorni fa con i vertici della federazione del compitato. Hanno fatto questi gironi guardando principalmente il problema ordine pubblico, è stato determinante. Si vociferava dell'Avellino nel Lazio e così è successo e mi sorprende il Bari che da Pugliese viene con noi in Sicilia e Calabria, però va bene così perché il Bari è una città blasonata, viene dall'A, dall'A, e allora vuol dire che facciamo un po' di incasso. L'ultima volta ci siamo visti a Gragnano, era una nocerina che aveva bisogno di qualche innesto, gli innesti sono arrivati di esperienza e ci si proietta all'inizio ufficiale della stagione con un po' più di ottimismo rispetto a quella che era stata l'amichevole con il Gragnano. Esatto, abbiamo fatto il possibile, penso che qualche altro tassello over lo dobbiamo ancora fare per completare l'organico. Piano piano, in grosse difficoltà, stiamo riuscendo a quadrare una squadra che non diventichiamoci che noi teniamo l'obiettivo nostro e la salvezza. Un camminato tranquillo. Togliamo la salvezza, io non parlo mai di salvezza, non sono mai retrocesso.